Vai meccanico mi raccomando un ragazzo serio che sa fare il suo mestiere sempre pronto aperto anche la domenica aperto anche la domenica vedi lele sto qua facciamo il lavoro perché si è aperto anche la domenica capito questo qua è un teron quindi essendo teron è uno che partì di straniero perché ti dici quello della destra e quindi io facciamo il lavoro meccanico in gamba e costa molto meno capito ecco sappio trombetta ancora noci cari cenacolisti oggi una bella giornata per la bicicletta e in mezzo alla natura valerio e il duca vi salutano da un bel luogo non distante da casa nostra ma proprio tranquillo nel frattempo continuo la raccolta delle noci per fare il nocino da parte di valerio e stanno arrivando anche con le barche e vanno in spiaggia allora oltre a essere meccanico è anche un erborista e liquorista vedete ieri abbiamo raccolto anzi ha raccolto come avete visto le noci e sta facendo il nocino vedete guarda che spettacolo bravo e valerio si è un grande grande i nostri giri sono sempre giri importanti e soprattutto finalizzati a qualcosa di buono e qui abbiamo invece e questo è il sabbucco no dai cos'è i pomodori ah anche i pomodori in casa guarda leone guarda qua i pomodori in casa ti hai visto vedi tu gli sei da cambiare ormai e vedi guardi che sono pronti quasi freschi i pomodori grazie grazie grazie